Quali sono i suoi vizi maggiori o sono stati? I vizi maggiori? Le canne. Io a un bel punto non dormivo mai, non dormivo più, più. Finché mi hanno fatto fare una canna, ho detto, ecco la mia medicina. Lei tra l'altro ha detto che avrebbe dovuto trovare delle badanti che sanno rollare. Ah, ho detto un giorno, sì. Ha trovato, no? Dovrò trovare una badante che rolla. Allora, cosa è successo? Che andavo per la strada e i ragazzi Orbella, io non lavoro, ma rollo da Dio. Venimi, vengo io a fare il badante. Invece lei rolla da sola. Non rollo da sola, per adesso. Mi dice una bella... È il mio sonnifero. Tutte le sere una? È il mio sonnifero, sì. Una? Una.